Perchè andate in giro armata, sorella Franks? Per proteggermi, madre superiore. Per proteggervi e da che cosa? Dalla violenza. Questo quartiere è un inferno. Siamo già state tutte quante aggredite. Questa settimana sono stata derubata due volte. E stamattina altre sorelle sono state assalite in chiesa. Diteglielo, sorella Pins. Siamo molto spaventate, madre superiore. Sembra che il diavolo sia ovunque in questi ultimi tempi. Io l'altro giorno stavo passeggiando quando un bambino di cinque anni mi ha aggredito ed è scappato via col mio rosario. D'accordo, sorelle. Io posso anche comprendere le vostre paure. Ma rispondere alla violenza con la violenza non è cristiano. Il signore ci ha dato la preghiera affinché ci proteggessimo dal diavolo. Non le armi. Ricordatevi che siamo delle suore. Madre superiore, noi non smettiamo mai di pregare. Ma queste continue violenze sono insopportate. Adesso basta. C'è nessun'altra di voi, sorelle, che va in giro armata? Ah, mancato! Fa un culo! Consegnatevele avanti. Oh, guardate! Facciamo fuori un po' di cornacchie. Ehi! Attento! Becky, dove stai andando? Ritorna sulla strada! Non ci riesco, mi dispiace, il volante si è bloccato. Becky! No! Pilazzo! Tira al palco! Estava sparando! Peggy, gira a sinistra all'incrocio Gira a sinistra, Peggy Ehi, guardate, è il ristorante Capolinea Comunque, Dave, dammi retta Fagli dare una controllatina a questo volante, ok? Mi è venuta una fame Avevate ragione, ragazzi Lei è veramente speciale Deve aver bevuto prima che passassimo a prenderla Il vostro tavolo è pronto Scusatemi Scusa Scusa